Leggi sulla immigrazione. Arrestati quattro cittadini tunisini sbarcati a Lampedusa. Agenti della squadra mobile hanno proceduto all'arresto di quattro migranti sbarcati clandestinamente insieme ad altri 91 extracomunitari di nazionalità tunisina con un pescareccio la sera del 31 maggio scorso presso il molo Favaloro di Lampedusa e successivamente trasferito presso la struttura Oasi Don Bosco a Noto. Gli arresti ordinati dall'autorità giudiziaria competente sono stati possibili grazie ad attenti riscontri investigativi che hanno acclarato che i quattro tunisini hanno violato le norme sull'immigrazione facendo nuovamente ingresso nel territorio nazionale dopo che già erano stati espulsi. I quattro tunisini pertanto sono in regime di arresti domiciliari presso lo stesso centro di Noto. Le 22 circa. Agenti delle volanti sono intervenuti in via Filippo Iwara per l'incendio per cause in fase di accertamento di un'autovettura Ford Fiesta che è stata danneggiata dalle fiamme nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono in corso.